segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora nel 1988 a un certo punto in quella trasmissione arriva una telefonata era una viere del centro radar di marsala che disse in forma anonima io lo invitai a dire il nome ma lui attaccò disse in diretta ovviamente tutto in diretta tutto in diretta sì beh quel programma era in diretta come il suo del resto confermo sono le 11 17 disse che i nastri che radar dove venivano registrati i movimenti degli aerei in volo erano stati manipolati affermazione gravissima manipolare un documento di quel tipo la mattina dopo mi telefonò c'erci furono delle polemiche mi telefonò con mia grande sorpresa il giudice borsellino che non conoscevo dicendo pensi che uomo che era telefonò a un giornalista per dirgli avete fatto un lavoro straordinario ci avete invogliato a riprendere con forza le ricerche le indagini su questo su questo crimine poi borsellino ha fatto la fine che ha fatto però quel gesto lo fece senta quando lei ha letto l'intervista di giuliano amato a repubblica no così chiudiamo il capitolo sustica con questo elemento di novità che cosa ha pensato che finalmente si cominciasse a squarciare quel muro di gomma che ha raccontato purgato no non ho pensato questo ho pensato la verità su stica macron chieda scusa famosa intervista di qualche il titolo come sempre come spesso i titoli anche i vostri ovviamente deve riassumere ed enfatizzare se mai parleremo di paolo adesso ci arriviamo anche anche questo titolo è un po' enfatico però il io ho interpretato il bisogno di amato di parlare con quello che poi lui ha detto credo che sia stato sincero amato come del resto io è un uomo anziano non ha davanti a sé molto tempo evidentemente questa cosa gli è rimasta come uno dei grandi dolori rimorsi si può essere chiesto forse non ho fatto abbastanza avrei dovuto fare di più ecco secondo me la molla di questa intervista è lì del resto lì non dice niente avanza delle ipotesi avanza delle ipotesi quindi chi l'ha accusato di mendacio e lui bugiardo perché lui non ha detto ha detto la possibilità che è forte allora è